Benvenuti, siamo tornati con un nuovo pack opening e qui ci sono ancora gli oscar rosa incredibile partono tutti gli oscar no no non ne inizia porco due che... ti pregaccio di casa tua io ve lo faccio un cazzo perchè oggi lei ha fatto una cacata che voi potete capire comunque vendo iphone... vendo iphone 4 se volete e boom e iphone 3 gs mi pare cacpi vabbè possiamo fare un pack opening vedete ce l'ho messo benissimo spab caceres LEWANDOSKI oh mio dio vale voto incredibile amici si scatta ops non mi può scartare le vendosse chiagliature 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 ca bella ca bella che bella vittoria ca bello fantastico terstegen gerstegen bolat 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 e non bevo delle cuirine per rum e dei polacchi pam notte dei polacchi fantastico la cosa più bella che ci vediamo E questo sarà il pacchetto che ci darà Messi Che ci darà Messi e poi ci banneranno Incredibile Ci darà Messi Rosa Piatti Però ci dai piatti Abbiamo il salvio Manca solo il burro Ezione a Higuain Fantastico Higuain Non porterà nulla A parte i brandelli Mamma mia io ti scarto proprio flash Messi c'è Messi c'è Pitti Nocerino Penso un attacco pitti piatti Pitti 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 Zan zan Un pedipiatti Zan 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 pitti piatti Oh ciupo moting Vediamo 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 Qualcuno di buono Uno Uno solo Mattie Vabbè un Barcellona Che cazzo vada Dove hai dovuto il Barcellona Oh Allora si Che cazzo vada Che cazzo vada Se troviamo del Barcellona Che è grandiosa la cosa Leno Hazard Di nuovo Diciamo che è una possibilità Su indici Oh Non è scattivo Su indici Su indici Di trovare Messi Sì comunque Non è che sia schifoso Perché soltanto undici giocatori Del Barcellona Ci stanno Su Uff Berbadov Che ha fatto cazzo Se è pelato È diventato coso Io pare Rocco Ragazzi Ragazzi è Rocco Casalino Che cazzo è Rocco Rocco Casalino Gomorra No 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 Rocco Casalino Ragazzi Chi conosce Rocco Casalino Riderà in questo momento E lui C'è quale Che cazzo è Rocco Casalino Bam Osil Una volta valeva un botto Non vale il cazzo Guarda 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 7000 Io mi ricordo Nei quali valeva 75000 Osil Sì C'erano bei tempi Ma Anjukic De la Juve E anche lui vale 2000 5000 Dai Mamma mia Sono Alfredo Petula Comunque si sa Ma sai che si sono sbrigati A mettere Cioè sugli altri FIFA Si li mettono subito Eh sugli altri FIFA Invece non li mettevano più Sì ma ci serve adesso Giocatore che valgo Cioè che button ci fanno un cazzo Dubbio Crouch Crouch Questo sarebbe ne a Roma Rondon 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 Dindon Dindon Intervengo da San Pietroburgo Assegnato Oh Rondon Dindon 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 Non è nemmi Hai rotto il cazzo Pure quello è matrato tozzo Hai rotto lo cazzo Dindon di Filano Hai rotto lo cazzo Hai rotto cazzo Hai scassato una mingha Poi arriva i guai Che ha avuto da dentro E non c'è Dubbio Hai rotto il cazzo Cioè Arriva Attenzione Incredibile Fatto a scopo Vai 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 Sensazionale Lutriguez Dubbio No No Chiai esolo Che è Jesolo quello Ah no Osorio 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 Sio Osorio Ah E sta a far male tipo Qua Cioè qua Tutto qua Ah no Non c'è di Bah Dubbio Oh Lo sapete Non ce l'ho far saprere E finalmente Così sazzitua taglie Non sapevo Che lo troviamo 96 6! Porco cane questo vale troppo! No, no, fammi vedere quanto vale! Porco cane! Doppiaaa! Doppiaaa! Davvero? Che cazzo? Abbiamo venduto qualcuno? Abbiamo venduto Ramos il Dumbia subito! Cioè è messo sul mercato e comprato! Porco cane questo vale... E' al massimo 300.000! Perché è buggato! Eh lo so, massimo 300.000 però! Amo venduto Dumbia in 3 secondi regà! Manco l'hanno messo! Vabbè! Cioè appena... Questi sono l'auto buyer, per forza! Eh sì, perché il prezzo vuol dire che si alza! Non c'abbiamo più Dumbiaaa! Non c'abbiamo! Vabbè, e niente, abbiamo trovato Dumbia, il nostro scopo è fatto, quindi avremo l'ultimo pacchetto e vediamo che cazzo troviamo! Dumbiaaa! Cioè comunque ci sono rimasto male! Ma perché l'hai messo infatti? Perché l'hai messo? Perché ti metti sempre metti rosa, io ho messo rosa! Che cazzo l'ho tenuto! Ah, l'hai tenuto? Sì! Ah, l'ho messo con madri! E niente, con questo bellissimo Dumbiaaa che è rimasto con noi 3 secondi netti, diciamo che è tutto e ciao!